Il dottor David Banner, medico, scienziato, alla ricerca di un modo per tenere sotto controllo la forza nascosta che tutti gli esseri umani possiedono. Un accidentale overdose di radiazioni gamma ha alterato il metabolismo del suo corpo. E ora, quando David Banner viene offeso e va in tollera, si verifica una terribile metamorfosi. La creatura che c'è in lui è guidata dalla rabbia e inseguita da un giornalista investigativo. Signor McGee, non mi faccia arrabbiare. Non le piacerei da arrabbiare. La creatura è ricercata per un omicidio che non ha commesso. David Banner è creduto morto e lascerà che il mondo lo creda finché non riuscirà a trovare un modo per controllare lo spirito rabbioso che dimora in lui.